Siamo con Luca della sezione arbitri di Chioggia, rappresenta la vostra associazione? Sì, noi siamo l'associazione degli arbitri della sezione di Chioggia, noi abbiamo tanti ragazzi che da quest'anno hanno iniziato questa nuova carriera, il corso è gratuito, completamente gratuito, la sede è in Viale Padre Emilio Venturini e il corso è aperto ai ragazzi dai 14 ai 40 anni, ragazzi, mi piace ragazzi, ma da quest'anno abbiamo anche tante ragazze, che infatti ne abbiamo alcune qua che hanno iniziato e che quindi da ottobre inizieranno, il corso è gratuito, c'è disponibilità del materiale per tutti e si inizia questa esperienza formativa anche a livello caratteriale che è molto importante mettersi in gioco. Perfetto, chi volesse iscriversi? Allora sui nostri social, su Facebook, su Instagram, trovate tutto, basta che ci iscrivete, c'è anche il numero di telefono indicato, così potete trovare tutto quanto là. Allora siamo alla Camm, la pesqueria della Camm, la novità è sulle ostiche, praticamente c'è una nuova confezione come potete vedere da immagine, costa 15 euro al chivo, sono una decina di ostiche, il prezzo è buono e sono veramente ottimi, una novità tecnologica, aprire le ostiche non è diciamo facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico quindi assolutamente che non dà nessun problema e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che come potete vedere rende facilissima l'apertura dell'ostica.